Qual è lo stato di salute degli italiani e qual è la qualità dell'assistenza sanitaria nelle varie regioni italiane? Da 15 anni risponde a queste domande il rapporto Osserva Salute, presentato anche quest'anno al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, che analizza sia lo stato di salute delle persone, sia lo stato di salute del sistema. Il quadro che emerge è complesso e diversificato a seconda delle aree geografiche. Fra gli aspetti positivi i bilanci dei 21 sistemi sanitari regionali, che stanno rientrando dal debito, la diminuzione della mortalità prematura, quindi fra 30 e 69 anni, che è considerato un indicatore di sviluppo sociale a livello mondiale, e anche la diminuzione di alcune forme tumorali grazie alla prevenzione. Fra i dati negativi, l'aumento di tumore al polmone nella popolazione femminile e la cronicità, legata all'aumento dell'età media, con un numero sempre crescente di persone non autosufficienti. Gli stili di vita nel confronto internazionale dimostrano che c'è ancora un gap da colmare nel controllo del sovrappeso, nella frequenza con cui si svolge attività fisica e nel numero di persone vaccinate. Dal rapporto emergono molte Italie, diverse fra loro, perché questo? Perché di fatto oggi abbiamo un'Italia, soprattutto quella settentrionale, che è meglio organizzata e risponde meglio alle sfide della salute e della sanità, per esempio facendo più prevenzione, organizzando meglio i propri servizi. E dall'altra parte abbiamo un'Italia, soprattutto purtroppo al sud, che prevenzione non la fa e quindi produce morti evitabili e contemporaneamente produce dei cittadini che hanno una minore aspettativa di vita, quasi come se fossimo in due paesi diversi. La cronicità, un problema oggi e ancora più in futuro? Assolutamente, le malattie croniche, pensi che soltanto 5 malattie croniche, cioè le malattie cardiovascolari, le malattie oncologiche, l'ictus, il diabete e le malattie neurodegenerative assorbono già adesso il 70% dei soldi del Servizio Sanitario Nazionale. Sono miliardi di euro che naturalmente cresceranno se noi non facciamo adeguatamente prevenzione e quindi noi probabilmente faticheremo a curare i malati del futuro se non ci organizziamo in tempo. L'aspettativa di vita è sempre più lunga ma la qualità di vita non sempre corrisponde? Sì, il fatto positivo è che la salute degli italiani, generalmente buona, aumenta l'aspettativa di vita. Il problema è che nell'ultima fase della vita però questo non succede. Questo rispetto per esempio alla Svezia che ha solo 5 anni vissuti nella fase ultima della vita in condizioni di cattiva salute, nel caso delle donne del meridione d'Italia sono 16, quindi significa che intorno ai 60-65 anni cominciano a avere problemi che poi peggiorano nel corso del tempo. Tutto questo è evitabile. Come? Evitabile facendo un'adeguata educazione alla salute. Purtroppo i nostri cittadini mangiano troppo, mangiano male, non fanno attività fisica, bevono troppo alcol e fumano. Adesso generalizzo ma insomma per far capire quali sono i fattori di rischio. Se senza diventare monaci qualcosa in qualche modo si modifica tempestivamente, la vita è più lunga, più sana e più felice. Dai dati emergono alcuni aspetti positivi e molti altri purtroppo negativi. Quelli positivi attengono sostanzialmente al deficit. Il deficit delle regioni sta diminuendo. Ormai quasi tutte le regioni hanno raggiunto il pareggio di bilancio, quindi da questo punto di vista le cose vanno molto bene. Così come vanno bene anche alcuni altri indicatori di esito del sistema, per esempio sta diminuendo ormai da anni in maniera consistente la mortalità precoce, cioè quella mortalità che avviene tra i 30 e i 69 anni per cause evitabili. Quindi questi sono sicuramente due aspetti positivi. Quelli negativi che forse sono un po' risvolto della medaglia dell'aumento della sopravvivenza e l'invecchiamento della popolazione che porta con sé l'aumento del numero di malati cronici e porta con sé l'aumento del numero di persone anziane non autosufficienti. Questo forse è uno degli elementi più critici perché farà sì che nel futuro dovremo far fronte a questa domanda, a questa pressione che già adesso è elevata perché se voi pensate che l'home care, cioè le cure per gli anziani particolarmente, grava per il 10% sul bilancio statale della sanità, mentre allocano il 40% delle spese delle famiglie. Quindi le famiglie si fanno carico di una grossa parte di questa spesa e questo per il futuro sarà sicuramente un problema. Per il resto i confronti internazionali, abbiamo fatto dei confronti internazionali, da questi confronti emerge un po' quello che ho già detto, in realtà gli italiani è vero che vivono mediamente di più di quasi tutti i paesi europei, però vivono in condizioni peggiori. Quindi la qualità della vita degli anziani è mediamente peggiore di quello che noi osserviamo nel resto dei paesi europei. Gli stili di vita non sono ancora adeguati, possono essere sicuramente migliorati perché l'obesità tende ad aumentare, l'abitudine al fumo è stabile, non diminuisce più tra anni, anzi forse aumenta un po' tra le donne ed è ancora troppo alto il consumo di alcol. Quindi questo sicuramente in prospettiva impatterà su alcune patologie croniche gravi. A livello regionale noi osserviamo una dicotomia forte nel paese perché il mezzogiorno è sicuramente più svantaggiato rispetto agli altri paesi, hanno una speranza di vita più bassa, hanno maggiori patologie croniche, accedono più difficilmente all'assistenza. Quindi sicuramente è un problema molto legato anche agli aspetti sociali ed economici perché come vediamo certe condizioni di salute sono molto legate agli stili di vita come abbiamo detto prima e al titolo di studio perché chi ha un titolo di studio più elevato ha una speranza di vita più lunga degli altri. Uno fra i temi più sensibili evidenziati dal rapporto è quello che riguarda la disabilità e i disturbi psichici con l'aumento di prescrizione di antidepressivi legato sia al riconoscimento di una patologia finora sommersa sia allo stress di vivere a lungo con patologie croniche e invalidanti. Il grande tema attuale dei prossimi anni sarà quello della cronicità. Le attuali tecnologie terapeutiche riescono a ridurre la mortalità ma spesso non a guarire e quindi i cittadini rimangono in qualche modo malati cronici anche per molti anni. La situazione di cronicità ovviamente si porta dietro a tutta una serie di problematiche anche di qualità della vita e sociali e ad essa è legato anche il consumo di farmaci antidepressivi. Nel dati dell'Osserva Salute ci dicono che il consumo di questi farmaci è in aumento. Siccome sono dati che derivano dalle prescrizioni del Servizio Sanitario Nazionale ci auguriamo che siano tutte prestazioni e prescrizioni appropriate e quindi tendenzialmente legate a una reale necessità che va di pari passo con i dati che noi abbiamo di un aumento della patologia cronica ed è bene, noi riteniamo corretto un aumento del consumo di questi farmaci perché fino a qualche tempo fa la depressione non era considerata una patologia o comunque una patologia che non veniva dichiarata bene che emerga e bene che sia trattata correttamente.